Buongiorno ragazzi buongiorno benvenuti finalmente in questo nuovo video allora era da tanto tempo che non vi tiravo fuori un episodio del genere quindi mi raccomando supportatelo sempre con un bel like arriviamo a 5000 like per il prossimo video so che vi sto chiedendo l'impossibile quindi mi raccomando supportatemi con un bel like che io sono molto contento e questo aiuta tanto il mio lavoro in ogni caso sotto nei commenti fatemi sapere il prossimo strumento che volete vedere recensito sul mio canale chiaramente non vi portavo da tanto questo format ma semplicemente perché wish mi ha inviato perlomeno questa cosa che avevo ordinato dopo ben due anni di attesa mi raccomando se ordinate sappiate che i tempi sono biblici allora il pacchetto ce l'ho qua davanti vi volevo prima di tutto ringraziare perché abbiamo sorpassato i 50.000 iscritti qua su youtube però non ancora su instagram e questa cosa non mi va tanta gente quindi se ancora non mi seguite su instagram fatelo vi lascio qua in descrizione il link col quale mi potete trovare su instagram raggiungiamo i 60.000 follower organizzerò un giveaway poi deciderò se farlo di bullpowder farlo magari anche sul coaching oppure in qualche altro modo quindi mi raccomando 60.000 follower su instagram dai venite a trovarmi e followatemi allora il pacchetto che mi è arrivato è questo qui non ho ancora idea se funziona o meno perché ancora non l'ho non l'ho provato l'ho solo aperto per vedere un attimino se contenesse tutte le cose perché si sa poi spariscono le cose ordini una cosa te ne arriva un'altra ordini un colore di arrivare un altro colore insomma mettiamoci davanti al computer perché vediamo un attimino le caratteristiche e poi lo andiamo a provare attrezzo per allenamento muscolare attion ems professionale 8 cuscinetti allenatore bla 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 attrezzatura aron quante cose che ci sono scritte qua dentro ovviamente l'immagine di wish super clickbait con due tizi super fighi tipo mega muscoloso la tipa super figa tutto il kit full come sapete dal mio ultimo video vi avevo portato un attrezzo simile solo che non mi era molto garbato probabilmente era difettato quello lì c'era solo a zone quindi non contento ho voluto riportarvi un altro kit però questa volta completo signori ovviamente dal magico prezzo di 168 euro alle offerte wish 10 euro quindi da 168 a 10 euro 99% di sconto andiamo a vedere un attimino le caratteristiche principali dunque abbiamo le ms technology raga la super tecnologia innovativa potrete stare a casa comodamente sul divano sdraiati a far crescere la vostra massa muscolare cioè capitela cioè capite eh capite simple operating direi che è molto semplice da utilizzare possono usarlo anche i bambini di due anni fat burning effect andrà a incidere ovviamente solo sul vostro grasso cioè potete mangiare quello che volete utilizzate questo dimagrite raga easy cioè chi le inventate le palestre ma perché cioè questi sono miliardari il segnale viene convertito al muscolo sostanzialmente abbiamo delle ventosine gel diciamo che questa qua è fatta zona cioè servirà per la zona della parte addominale per la parte dei bicipiti barra tricipiti poi le donne se li possono mettere pure sulle gambe però non è una cosa che a me interessa vediamo qua la zona target di lavoro qua abbiamo un prima e dopo averlo utilizzato ovviamente io partendo già da una composizione tipo after dovrei avere dei risultati incredibili ok one power inching craze abbiamo nove livelli di potenza cioè che manca un super saian arriva al livello 9 e qua mi piace è composto da tre telecomandini eccetera 10 euro spedizione mi è arrivato dopo due anni ci sta vediamo un attimino le valutazioni negativa 42 lol mi è arrivato dopo tre settimane e grandi grande don grande 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 meraviglioso va bene tutto un italiano bello con programmi vari l'unica pecca è l'intensità della stimolazione messa al massimo non è così forte da far contrarre il muscolo in profondità cato che tu non possa andare in palestra però eh abbiamo delle stelle che però nessuno lascia le recensioni insomma sembrano un po inventate non sono assolutamente da considerare abbiamo tutta la pappardella della descrizione che non vi sto nemmeno a leggere perché non ho nemmeno voglia io ma i be one è abbastanza diciamo recensito bene curioso di provarlo voglio voglio subito mettermi all'opera quindi direi che andiamo a fare un bel unboxing prima che inizi questo video ovviamente volevo ricordarvi dato che mi è appena arrivato un mega paccone di bulk powder lo sponsor col quale lavoro da oramai circa due anni che sotto in descrizione trovate il link al sito sta proponendo degli ottimi sconti se farete un acquisto da lì mi supporterete quindi supportate tutto quello che è il mio lavoro e io prima di iniziare questo video faccio una faccio una merendina con il loro famosissimo biscotto ha dei valori veramente molto interessanti ma soprattutto è comodo da portarlo dietro sotto in descrizione il link ragazzi direi che possiamo partire subito con un unboxing scatolina nera una qualità discutibile abbiamo il primo paddino il secondo paddino e infine il terzo paddino questi dovrebbero essere i telecomandini con i quali si riuscirà a controllare la frequenza presumo di questo attrezzo ovviamente qualsiasi cosa mi succede in questo video io lorenzo lari lascio tutti i miei soldi a ok va bene perfetto quindi tu riceverai tutti i miei averi abbiamo le due fasce in teoria queste qua sono le due fasce da utilizzare penso sui bicipiti poi abbiamo il core principale quello per la zona dell'addominale proprio curioso di vedere se effettivamente questo prodotto sarà valido o no abbiamo un libretto delle istruzioni diamogli una lettura volante allora già qua vedo danger scritto enorme pericolo di morte pericolo di soffocamento pericolo di morte e soffocamento pericolo di morte di soffocamento e di arresto cardiaco no non voglio più continuare questo video ovvio libretto delle istruzioni ma non ci serve facciamo tutto noi da soli iniziamo con questo come così tac abbiamo una parte davanti dove in pratica andrà presumo attaccato l'elettrostimolatore e una parte dietro con i gommini ora la domanda è conterrà le batterie o no devo recuperare le batterie la cosa che mi rasserena è che batterie a a a 2 in ogni mouse chiamiamolo così non penso abbiano la potenza per uccidere una persona o forse sì direi che è arrivato il momento di aprire anche questo oh mio dio ma va questo dovrebbe prendere tutta la fascia addominale no momento della verità è arrivato posizioniamo prima di tutto le fasce io gli attaccherei prima sto coso ok che figata quindi io lo metterei non so se metterlo io direi così così l'elettrodo prende il bicipite e il tricipite dietro facciamo la stessa cosa anche con l'altro devo dirvi la verità ho veramente super paura tac stiamo con questo enorme qua in pratica attaccandolo dovrebbe trasmettere la corrente elettrica ma perché mi vengono in mente queste cose io dico allora io partirei con questo iniziamo con on e off oddio vedete vedete che sta mi sta pulsando però mi pulsa solo il bicipite accendiamo anche questo oddio assurdo mi si muovono da sole le braccia più intenso oh mi si ferma oddio oddio oh mi si sta muovendo il braccio da solo oh fermati proviamo con questo programma 4 è uguale ok comunque pulsano oppure contrai di colpo ora però voglio provare con la fascia addominale vai non succede nulla ok sento un pizzichino qua dietro ok contrai solo una zona raga ma perché quelle le fasce addominali sono così pacche quasi strano raga mi si sta contraendo tutto l'addome attiviamo tutto vediamo cosa succede tutto aiuto non riesco più a fermarmi oh ero impazzito fermati oddio io ho aumentato la potenza ok si iniziano a fare male donna raga ho scoperto che due batterie AAA hanno la potenza di ucciderti basta fermo 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 vi devo dire una cosa secondo me potrebbe essere usato anche tipo mentre fai dell'attività fisica no perché ti si contraggono i muscoli in un modo incredibile detto questo ragazzi io vi voglio ricordare una cosa andate in palestra non pensate che montandovi un paio di arnesi come questi con delle batterie si possano ottenere dei risultati perché è ovvio che non è così ok fanno un minimo di contrazione però non abbiamo un lavoro muscolare vero e proprio questo diciamo che è un po' una farloccata per far cassa comando non compratelo non buttate i vostri soldi in queste cavolate andate in palestra fate un bel programma di allenamento ma soprattutto abbinato a una buona dieta detto questo ragazzi io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo momento lasciate un like se ancora non l'avete fatto per supportarmi iscrivetevi al canale trovate il tasto rosso qua sotto sotto nei commenti prossimo articolo da portarvi farvi una recensione e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video bella raga